In un evento di box a Dubai è successo veramente di tutto Conor McGregor e Piotr Jan che fanno un face-off Conor McGregor e Islam Makhachev sotto lo stesso tetto nella stessa arena e Islam Makhachev che ha parlato del suo futuro prossimo e anche più a lungo termine Prima di andare avanti vi ricordiamo di lasciare un like al video dovete schiacciare soltanto sul pollice in alto il tasto appena sotto il video e iscrivervi al canale se non siete iscritti l'iscrizione è assolutamente gratuita basta cliccare su iscriviti e poi cliccare su tutte dove c'è la campanella per ricevere le notifiche all'uscita di ogni nostro video Tornando al tema del video appunto serata pazzesca in quel di Dubai in un evento di box dove c'erano Conor McGregor e Islam Makhachev veramente a pochi metri l'uno dall'altro uno da un lato e uno dall'altro del ring letteralmente c'è anche un video che li ritrava ovviamente c'è stato il face-off che anche lì ha fatto un po' il giro di internet tra Conor McGregor e Piotr Jan face-off molto amichevole ma che Conor ha preso tanto sul serio e poi Islam Makhachev ha parlato del suo futuro davanti alle telecamere c'è stata una sorta di media scram poco prima dell'evento e Makhachev ha parlato non soltanto di quello che vorrebbe che fosse il suo prossimo match il suo prossimo avversario ma anche il suo futuro a medio e lungo termine per quanto riguarda anche il finale o comunque il proseguimento della sua carriera e lui ha detto io non vorrei nessun rematch l'ho già detto io vorrei avere avversari nuovi anche per riuscire ad accrescere la mia legacy e in questo senso chi si è meritato un match e secondo me sarebbe perfetto come avversario perché non l'ho mai affrontato sarebbe Justin Gaethje Makhachev ha detto che sarebbe pronto a tornare per marzo il 9 marzo c'è UFC 299 a Miami però c'è un problema per quella card c'è già un main event che è Sean O'Malley contro Citovera 2 ed è stato annunciato da Dana White quando aveva proprio detto per la prima volta che ci sarebbe stato questo rematch già come main event della card perciò le cose tendenzialmente è difficile che cambino per quanto riguarda invece il futuro più a medio e lungo termine a Makhachev hanno chiesto qual è l'obiettivo finale l'obiettivo ultimo della sua carriera e lui ha risposto vincere e difendere la seconda cintura a difendere entrambe le cinture, ovviamente ho già difeso quella dei pesi leggeri io vorrei vincere la cintura dei pesi welter e poi riuscire a difendere anche quella e vedremo poi in seguito se arriveranno altre motivazioni per me ma per il momento l'obiettivo finale, l'obiettivo ultimo della mia carriera è quello lì gli è stato poi chiesto ridendo combatterai fino ai 40 anni? e lui ha risposto con una risata no fino a 40 no e ha poi aggiunto però magari un altro paio d'anni quindi Makhachev che mette già una sorta di data di scadenza o periodo di scadenza anche solo approssimativo che arriverebbe anche abbastanza presto in realtà un po' come è successo con Khabib anche se per altre ragioni va anche detto però che Khabib indipendentemente da quello che poi è successo e che l'ha spinto al ritiro aveva già parlato all'inizio della sua carriera in UFC di non voler combattere veramente fino ai 40 anni o comunque fino ai 30 inoltrati di volersi ritirare relativamente presto dopo aver raggiunto i suoi obiettivi e Makhachev sembra essere dello stesso avviso ora non sappiamo che cosa succederà nel suo prossimo match né in quello dopo né se vincerà la seconda cintura né fra due anni però al momento l'idea la scelta di Makhachev sembra essere quella di terminare piuttosto in fretta la sua carriera in ogni caso anche per evitare che sia poi come diciamo spesso lo sport magari a ritirare lui o che comunque ci sia questo rischio perché è un tema che hanno trattato spesso sia lui che Khabib quello del ti devi ritirare in tempo perché se no lo sport ritira te staremo a vedere ovviamente questa cosa mette un po' di tensione probabilmente già i fan di Islam Makhachev perché rischiano di vedere il loro idolo o comunque il loro fighter preferito andare via lasciare questo sport relativamente presto come è successo anche con Khabib però adesso è troppo presto per vederlo non sappiamo ancora quando sarà il suo prossimo match né contro chi fateci sapere nei commenti ovviamente contro chi vorreste vederlo se Gage merita la title shot se la merita Oliveira Tsarukian se vorreste vederlo invece già per la seconda cintura contro il vincitore del match tra Leon Edwards e Colby Covington anche se per me personalmente è presto perché possa aspirare ad una title shot per diventare champ champ comunque diteci la vostra nei commenti seguiteci su tutte le piattaforme e ci vediamo alla prossima grazie a tutti i nostri spettatori